Buonasera, bentrovati a questo nostro secondo incontro. Ci siamo dedicati in questo periodo di emergenza, di incontrarci, per fare un cerchio affinché la facoltà della speranza e della fiducia possa sempre di più andare nel mondo e portare forze di guarigione in questo periodo di cui tutti ne risentiamo bisogno. Ecco, vado avanti con il lavoro che abbiamo fatto riguardo all'interpretazione esoterica del Vangelo di Giovanni. Oggi ci occupiamo del battesimo del Cristo, di ciò che avviene sul Giordano. Chi è che fa questo battesimo e che significato ha? In questo momento è fondamentale per separare le due persone di Cristo e Gesù. Gesù è un individuo, un essere umano che si sviluppa da zero a trent'anni appunto a Nazareth. A un certo punto si sente spinto ad andare sul Giordano per incontrare appunto questo, diciamo, questa ascetta, questo Giovanni Battista. Giovanni Battista è un individuo particolare. È un individuo che, si potrebbe dire sulla faccia della terra, è il primo che si sente separato. Mentre tutti si sentono parte del popolo, si sentono che sono figli di Abramo, sono figli di Adamo, sono figli del loro patriarca, lui si sente solo. È colui che dice, Giovanni Battista è il primo uomo nel mondo che sente che l'uomo ha perso la via dello spirito e sente che la voce dello spirito si sta anteriorizzando. È il momento culmine in cui Dio smette di essere fuori nel cosmo, nell'universo, essere una sorta di, diciamo, colui che gestisce il cosmo e l'uomo dall'esterno perché vuole entrare dentro l'uomo e operare dall'interno dell'uomo, ma non come una possessione, per fare in modo che l'uomo possa diventare un collaboratore del piano divino. Ecco, Giovanni Battista è il primo che fa questo, voce di uno che grida nella solitudine del proprio io. Quindi si sente un io, si sente separato. Questa cosa dell'io non è una cosa che tutti, non pensiamo che, adesso noi ce l'abbiamo tutti, quest'io e per noi non c'è cosa più normale che avere un io, ma una volta non era così. Cioè, l'antico ebreo, l'egizio, il caldeo, il persiano, non è che avevano questa sensazione di avere un io così chiara. Dicevano io al popolo, alla famiglia, alla nazione, all'ideale, alla religione, ma non dicevano proprio io a se stessi. Non avevano una capacità di individualizzarsi come abbiamo adesso. Ecco, Giovanni Battista è il primo che si spoglia di questo legame e sente questo. Vediamo un attimo cosa dice l'Evangelo. Qua, se volete ve lo potete leggere con calma, ma è il momento in cui appunto avviene l'incarnazione del Cristo nel corpo di Gesù di Nazareth. Al solito viene simbolizzato con lo Spirito Santo sotto forma di colomba che scende. Ecco, noi possiamo dire che l'esoterismo ci dice che la persona di Gesù, fino a 30 anni, è un uomo, un essere che è vissuto tra gli altri uomini, ha fatto esperienze umane. In quel momento, quando viene immerso completamente nell'acqua, penetra dentro di lui quel principio che nell'incontro precedente abbiamo considerato come il principio Cristo. Il Figlio, la seconda persona della Trinità, colui che regge la configurazione delle stelle, che opera all'interno del Sole come potere di irraggiamento, di luce, di vita, ora entra in ogni singolo uomo. potenzialmente entra in tutta l'umanità con una differenza che vuole essere accolto con coscienza. Questo principio universale che noi chiamiamo Dio non vuole invadere la volontà dell'uomo e sottometterlo, no, vuole penetrare, sì, dentro il cuore dell'uomo. E questo gesto che accade adesso sul Giordano è il primo momento in cui entra in un corpo. Cioè, potremmo dire che il Cristo che entra in Gesù è il primo uomo che accoglie consapevolmente il principio del Cristo. Ecco, questo sarà un avvenire, qualcosa in cui tutta l'umanità dovrà in qualche modo confrontarsi, dovrà come accogliere. Ecco, abbiamo detto che il Battista è precursore della coscienza dell'io individuale perché una volta tutti si sentivano un po' aggregati in un'anima di gruppo. È il primo che sente questo, ecco. Qui ci sono immagini, ovviamente molto celebri, in cui ci fanno vedere questa immaginazione in cui il corpo di Gesù riceve appunto il principio del creatore del mondo, lo accoglie dentro di sé. Ecco, possiamo vedere diverse immagini molto belle che possono aiutarci anche nella meditazione di pensare che questo è il momento in cui il principio divino del cosmo entra dentro un corpo. Ma prima in Gesù, ma poi in tutta l'umanità. Questo si compierà a Pasqua, quando verrà crocifisso. Nel momento della crocifissione ecco che in tutti gli uomini viene riposto il tesoro dell'io. Cioè, tutti gli uomini da quel momento possono cominciare a dirsi io e possono, se vogliono, sentirsi figli di Dio. Quello che stiamo vivendo noi in questo periodo non crediamo che non sia una prova per sentirsi figli di Dio. Forse molti si stanno chiedendo il perché avviene questo, ma forse pochi si chiedono qual è il loro scopo sulla Terra, perché sono venuti sulla Terra, oltre che a lavorare, a fare figli, sposarsi, pensionarsi. Forse c'è anche un altro senso, ecco. Ecco, questo senso ci viene dato da Giovanni, dicendo io vengo per annunciare qualcosa che vive dentro di me, che è più grande di me. E questo è l'io. L'io è più alto, ha una missione più alta di quella che ho come umano. Solo che non lo so, non me ne accorgo. Io vi consegno, ti consegno questa conoscenza dell'io che ti dice che sei un essere in evoluzione. Sei un essere che ti devi evolvere e devi volgerti sempre più verso il Divino. Cioè, sei sulla Terra come uomo, ma non è una missione solo terrestre. È una missione spirituale. Devi sviluppare una capacità, una facoltà che ancora nell'universo non esiste. Devi diventare capace di amare in modo libero. E questo principio che cade e scende dentro a Gesù di Nazareth è il principio della responsabilità, della consapevolezza, dell'amore libero in ogni uomo. Ecco, questo principio è in ogni uomo. In potenza. Soltanto che non tutti sanno di averlo. quando uno si accorge di averlo diventa responsabile di tutto ciò che in realtà deve attendere nei confronti degli altri e comincia a capire che la soluzione dei problemi della sofferenza umana si è originata dalla perdita della fratellanza. Noi soffriamo, noi moriamo, noi siamo in epidemia perché in realtà non siamo più custodi di nostro fratello. E la cosa che disse anche Caino dopo averlo ucciso Abele, Dio disse ma dov'è Abele? Non lo vedo più. E Caino con arroganza dice ma sono forse il custode di mio fratello? Dopo averlo ucciso. Ecco, la nostra problematica nasce da una mancata, da un fratricidio, dall'aver dimenticato che siamo tutti fratelli. Ecco, su questo tema che è grandioso vorrei accennare a un altro tema che stasera riusciamo a inserirlo. Sempre nel Vangelo noi noterete che c'è quella parte in cui si parla della purificazione del Tempio, in cui è molto nota, in cui si vede Gesù molto arrabbiato che caccia i venditori di colombe, i buoi, i mandali, tutto è come se fosse scandalizzato, diciamo, ecco, in questo capitolo appunto potete leggere questo. Cosa rappresenta questo? Se ricordate, la volta scorsa abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni deve essere visto come il Vangelo del Dio. E siamo noi davanti al mondo, la nostra biografia, siamo noi che prendiamo in mano una sferza di corvicelle e cominciamo a cacciare fuori tutto ciò che è dentro il nostro Tempio. Che cos'è? il Tempio. Il Tempio è il nostro corpo. E che cosa c'è dentro il nostro corpo? C'è tutta questa roba qua. Ci sono celtronerie, ci sono pensieri futili, sentimenti storpi, sentimenti poco spirituali, ci sono istinti impuri, ci sono bestie, ci sono colombe. Ed ecco che noi possiamo farci largo e buttare fuori tutta questa roba da noi stessi. come Gesù simbolizza di buttare fuori tutta questa immondezza che c'è nel corpo. Non vogliamo questi pensieri inutili, queste colombe svolazzanti, queste pecore che si fanno comandare dall'esterno, questi buoi ottusi, tutti questi cambiatori di valuti, di denaro, noi non li vogliamo e li cacciamo fuori, viene mandato fuori da questo tempio che è il nostro corpo tutto ciò che è inutile, ciò che è futile, ciò che non serve a nulla. E quindi un gesto di liberazione che facciamo da ciò che non è essenziale. Noi non siamo i nostri pensieri inutili, noi non siamo i nostri sentimenti inutili, noi non siamo i nostri impulsi inutili. Per capire che si parla veramente di questo, lui stesso disse distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere e non parla del tempo di Gerusalemme, parla del suo corpo. Ecco, spero che anche stasera ci abbia fatto piacere stare insieme, grazie per essere venuti e ci vediamo domani sera con un'altra parte diciamo del Vangelo, cerchiamo sempre di ricordarci di queste immagini e di meditarle, prendere questo Vangelo come ci insegna anche Steiner, di leggerlo ogni mattina e di meditare alcune parti come ho anche scritto in un post. Grazie a tutti, vi auguro buona serata e non abbiate paura. Sono io, dice Cristo ai discepoli. Ci vediamo, arrivederci. grazie a tutti. Grazie a tutti.